Di una cosa siamo certi. Se andate ospiti a casa di Veronica Satti, non aspettatevi che vi porti in tavola un piatto di lenticchie. In alcun modo l'ex Geffina si avvicinerebbe a questi legumi, per i quali nutre una vera e propria fobia. Ma non disperate, la figlia di Bobby solo è davvero brava ai fornelli e saprà deliziarvi con uno dei suoi manicaretti. Veronica, infatti, ama cucinare ed è una buona forchetta. E pazienza se negli ultimi tempi si è concessa qualche peccato di gola, che l'ha portata a prendere qualche irrisorio chilo in più. Agli ater che gliel'hanno fatto notare sui social, l'opinionista di Barbara D'Urso ha risposto per le rime, confessando il suo amore per il buon cibo e che il piacere di coccolarsi, anche a tavola, di tanto in tanto, è davvero impagabile. Quando viaggio? Assaggio timo. Veronica Satti sei reduce da una vacanza a Los Angeles. Hai mangiato cibo locale o sei andata a caccia di ristoranti italiani? Sono stata in California e ho visitato diversi posti tra Los Angeles, Costa Mesa, Orange County e lo Yosemite Park. Quando sono all'estero non mangio mai italiano. preferisco il cibo locale per sentirmi una viaggiatrice più che una turista. Il locale migliore a Los Angeles è in End Out, una catena californiana che spesso si vede anche nei film e nelle serie TV. Molte celebrities, dopo aver partecipato agli eventi importa da gran sera ed è molto simpatico. Del resto, non si può resistere. Preparano gli hamburger più buoni che abbia mai mangiato. Qual è il cibo americano più buono in assoluto? Il barbecue come lo preparano gli americani è il top. Amo le costine di maiale marinate o spalmate.